Ciao Giovanni, siamo qui davanti alla Guardia Medica di Sernia, è qui che domenica scorsa ha prestato servizio la dottoressa di Roma che ha contratto il coronavirus, ma su questo fatto vediamo il servizio. Sempre più pesante l'incubo coronavirus che ora si può dire sbarcato anche in Sernia, infatti una dottoressa di turno nei fine settimana nella Guardia Medica dell'ospedale Veneziale ha contratto il coronavirus. La questione è complicata perché la dottoressa è residente a Venafro ma lavora a Roma presso il reparto di malattie infettive e di un ospedale della capitale, inoltre copre i turni di Guardia Medica festiva nel capoluogo Pentro come sostituta a Guardia Medica. A inizio settimana sarebbe venuta a contatto con una persona risultata positiva al coronavirus presso l'ospedale romano presso il quale presta servizio, da qui subito dopo la procedura del tampone anche sulla professionista che sarebbe risultata contagiata a sua volta. Al momento la dottoressa sarebbe asintomatica e in quarantena a Roma. Identica procedura sarebbe stata attuata anche sulla sua famiglia mentre si lavora per ricostruire la rete dei contatti tra medici e pazienti considerando che la dottoressa ha effettuato il suo ultimo turno a Isernia proprio domenica scorsa. E per concludere notizia dell'ultima ora sono stati posti in quarantena anche altri medici della continuità assistenziale che stanno anche chiedendo con urgenza di essere sottoposti a tampone. Bene abbiamo visto il servizio, da segnalare che a Isernia c'è anche un altro medico sotto osservazione, un medico che ha prestato servizio al Santimoteo, ha fatto un turno al Santimoteo ed è attualmente sotto osservazione. Per il momento da Isernia è tutto, ti restituisco la linea.